Siamo con Lorenzo Catellani davanti al Secchia che è alle nostre spalle e vista la sua veste nuova, recente di presidente della bonifica, parliamo proprio di queste prime settimane al vertice di questa importante realtà del nostro territorio. Come sono andate? Beh ovviamente settimane intense in quanto sono settimane nelle quali abbiamo lavorato al budget, al previsionale e quindi sono sempre momenti di programmazione, momenti molto belli perché ovviamente si pensa a quello che potremmo fare durante l'anno, durante il 2024, momenti molto intensi. Il previsionale è stato approvato recentissimamente, due giorni fa e quindi destineremo circa 28 milioni di euro in opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, quindi una molle di risorse veramente importanti, 10 milioni e mezzo circa con risorse dirette del nostro ente verso opere di manutenzione ordinaria. In montagna aumenteremo le risorse di circa l'8%, in montagna il ruolo della bonifica è molto importante e la regimazione delle acque e dei versanti sono strategici, ma aumenteremo anche le risorse dirette in pianura. E poi avremo oltre 17 milioni invece di risorse che provengono da risorse esterne, da vari bandi, quindi PNR, PSRNN, piuttosto che dal Ministero, che ci permetteranno di realizzare opere molto significative, soprattutto in termini di resilienza del territorio. E a proposito di opere significative non possiamo non parlare della diga di vetto, a che punto siamo? La precedente amministrazione ha licenziato la gara, sappiamo che noi siamo come ente di bonifica ente attuatore, quindi ente che deve curare la gara e che però prevede una volontà che è in capo alla Regione, in capo al Ministero, in capo a tanti enti sovraordinati a noi. Noi siamo comunque ente attuatore, credo che questo sia un riconoscimento importante della professionalità che i nostri tecnici riescono ad esprimere. Come dicevo la gara è già stata licenziata nella precedente amministrazione, quindi sta partendo e questo è un passo estremamente importante per la realizzazione dell'opera, perché la finalità della gara è quella di consegnarci alcuni dati strategici, innanzitutto il volume dell'opera, quindi la dimensione, l'ubicazione dell'opera, quindi dove si potrà costruire e il costo. Ecco, quindi ottenuti questi elementi si partirà con invece uno step successivo che sarà la progettazione puntuale dell'opera. Un passaggio importante verso la realizzazione di un'opera estremamente necessaria nella nostra valdenza. Che tempistiche si immagina per questo primo step? Le tempistiche sono dieci mesi, quindi serviranno dieci mesi per consegnarci il risultato. Torniamo un attimo indietro, riavvolgiamo per così dire il film e riparliamo di questi 28 milioni di ore di investimenti. Ci può dire alcune delle principali opere che verranno finanziate? Beh sì, alcune sono molto importanti e le principali sarà la rifunzionalizzazione della traversa di Cerezzola, che è una traversa fondamentale per orientare l'acqua verso i canali di irrigazione. Quindi posto sull'enza e una traversa che è sull'enza verrà rifunzionalizzata, cioè ricostruita. Inoltre verrà applicata una tecnologia molto moderna, quindi sostanzialmente una barriera gonfiabile che permetterà alla bisogna di essere appunto gonfiata, innalzata per riuscire a creare uno sbarramento più efficace per l'acqua, quindi nei momenti irrigui in cui vi è necessità, ma che poi potrà essere nei momenti di piena abbassata per creare meno impatto verso l'acqua. Ci sarà anche un lavoro importante sul canale di Ganaceto, nel modenese, di impermeabilizzazione, anche in questo caso di rifunzionalizzazione, in quanto saranno applicate undici paratoie di recentissima concezione, molto moderne, che porteranno, prevediamo, a un significativo risparmio dell'acqua e dell'uso dell'acqua. E poi un'opera importante che è la cassa di espansione sul cavo Bondeno, a Novellara, che avrà la duplice funzione sia di cassa di espansione e anche però di cassa di accumulo di acqua. Quindi sono tutte opere che seguono la moderna filosofia che nelle bonifiche si cerca di mettere in campo oggi, che quella di trattenere il più possibile l'acqua nel territorio. E quindi, insomma, è un concetto molto moderno di resilienza, anche da un punto di vista delle opere di bonifica.